Signore Onnipotente, Dio di Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato grida verso di Te. Ascolta, Signore, abbi pietà, perché abbiamo peccato contro di Te. Tu domini sempre, noi continuamente periamo. Signore Onnipotente, Dio di Israele, ascolta dunque la supplica dei morti di Israele, dei figli di coloro che hanno peccato contro di Te. Essi non hanno ascoltato la voce del Signore loro Dio e a noi si sono attaccati questi mali. Non ricordare l'equità dei nostri padri, ma ricordati ora della Tua potenza e del Tuo nome, poiché Tu sei il Signore nostro Dio. Noi Ti roderemo, Signore. Per questo Tu hai riempito i nostri cuori del Tuo timore, perché invocassimo il Tuo nome. Noi Ti rodiamo in questo esilio, perché abbiamo allontanato dal cuore tutta l'iniquità dei nostri padri, i quali hanno peccato contro di Te. Ecco, siamo ancora oggi qui, oggetto di oprobrio e di condanna per i nostri peccati. Però, Signore, Tu sei con noi, Tu ascolti la nostra supplica, perché tu sei un Dio pietoso, un Dio che ama il suo popolo, un Dio che perdona. E il Signore risponde. Coraggio, popolo mio, tu il resto di Israele, siete stati venduti alle genti per non essere annientati. Avete irritato il vostro Creatore. Avete dimenticato quello che vi ho levato, io il Dio eterno, e avete afflitto la vostra madre che vi ha nutrite, la Chiesa. Ho visto io la vostra scavitù. Io vi ho nutrite e vi nutre ancora. State vicini a me, osservate i miei comandamenti. Coraggio e figli miei gridati a Dio, ed egli vi libererà da tutte le vostre oppressioni, dal potere dei vostri nemici. Signore, con queste parole del profeta Baruch, tu ci rimproveri i nostri peccati, ma con le stesse parole del profeta, tu ci dai coraggio. Ci dai coraggio perché sei un Dio misericordioso, un Dio che perdona sempre il peccato, un Dio che correggia i propri figli, perché esse siano da te benedette. Signore, se noi abbiamo errato, se abbiamo appreso i costumi delle nazioni pagane, delle genti in cui noi siamo disperse, adesso tu ci raccogli davanti a te e ci insegni la via della vita, la via del bene. E noi vogliamo seguire quello che tu dici, perché tu solo hai parole di vita eterna. Vogliamo camminare per la strada che è l'unica strada che porta alla salvezza. Lode e gloria a te, oh Signore. Signore, tu vedi macchie nei giusti e anche i tuoi angeli, che per noi sono puri, hanno delle macchie dinanti al tuo occhio. Signore, la tua parola oggi ha fatto vedere tutte le nostre macchie. Ci sarebbe stato da scappare dalla Chiesa, davanti alla tua parola, davanti alla tua luce che scandaglia, davanti a questa lampara, che poteva sembrare anche spietata, che voleva guardare i fondali del nostro cuore, tutti gli anfratti delle rocce, tutti i nascondigli per scovare, scovare, scovare. E invece siamo rimasti tutti, e forse pochi sarebbero veramente voluti fuggire via dal tuo volto. Sei stato l'angelo che ci ha trattenuti per contemplare la tua misericordia, oltre al tuo sguardo di rimprovero, benedetto questo angelo che ci ha trattenuti nel tuo santo tempio. Se è stata la nostra superficialità, se è stata la nostra disattenzione, se è stato il nostro non volerci confrontare con la parola, è stato l'angelo cattivo che ci ha trattenuti nel tuo tempio e ci ha spinti senza umiltà, senza accortezza a fare la comunione. Padre del Cielo, il tuo santo Spirito ci ricorda il peccato, benedetto questo momento in cui il tuo Spirito ci ricorda il peccato, benedetto il momento in cui il tuo Spirito ci fa guardare te. Fa, oh Signore, che noi sempre, in qualunque momento della vita abbiamo dinanzi ai nostri occhi la tua grandezza e il nostro nulla, la tua santità e il nostro peccato. Mai, oh Signore, permetti, per favore, che guardiamo solo al nostro peccato senza guardare te, grande e misericordioso, sarebbe la disperazione, sarebbe la morte, ma non permettere neanche, o Signore, che contempliamo solo la tua grandezza, la tua santità, la tua maestà, dimentichi di quello che siamo noi. Perdono Dio il nostro peccato, lavami, oh Signore, da tutte le mie colpe, purificami dal mio peccato, solo allora sarò un mondo. Ti benediciamo, Signore, per la tua parola, che è luce, anche se è spada. Grazie, oh Signore, benedetto per la tua parola. Grazie, oh Signore, ti voglio lodare e benedire e ringraziare stamattina, oh Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei per noi Padre, perché tu ci hai dato la tua adozione, oh Signore. E lo dice la lettera ai Galati 4. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che siamo figli ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito Santo, lo Spirito del suo Figlio, che grida Abba Padre. Quindi, non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede, per volontà di Dio. Grazie, oh Signore, che sei venuto a riscattare noi dal nostro peccato. Vogliamo ripulire il nostro cuore, oh Signore, questa mattina. Vogliamo essere purificati da Te. Vogliamo gridare allo Spirito Santo di venire dentro di noi, di lavarci e purificarci, di darci la conversione, perché possiamo camminare verso di Te, puri, integri, come Dio vuole, come figli di Dio, liberi da ogni schiavitù. Grazie, oh Signore Gesù. Lode, gloria e onore a Te, oh Signore. Signore, Tu hai permesso che tutti fossimo nel peccato per essere il salvatore di tutti. Tu l'unico è giusto, Signore Gesù. La Tua giustizia trionfa su di tutti. Nessuno può dire, oh Signore, a Te, io non ho bisogno di Te perché sono giusto. Tutti siamo peccatori, oh Signore, chi per un verso, chi per un altro, chi più chi meno, tutti siamo peccatori. e Tu, oh Signore, hai permesso che tutti fossimo nel peccato per essere il salvatore di tutti, perché nessuno potesse dire, io non ho bisogno di Te, io non ho bisogno di perdono. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo anche perché noi siamo in una condizione di dover chiedere a Te aiuto per vivere. Tu sei venuto per tutti e tutti questa mattina gridiamo a Te. Se Tu non ci salvi tutti, ti pareremo, ma Tu sei venuto per salvarci. Il Padre Tuo ti ha mandato in questo mondo per essere il nostro salvatore, non il nostro condannatore. E allora ci affidiamo a Te. Prostrati davanti a Te, chiediamo perdono per i nostri peccati, per i peccati dei nostri fratelli, per i peccati del mondo, nella sicurezza che il Padre Ti ha mandato, non perché il mondo perisse, ma perché il mondo si salvasse per mezzo di Te. O Gesù, Salvatore nostro, Tu che questa mattina hai offerto il tuo corpo e il tuo sangue al Padre, in remissione dei nostri peccati, Tu che in tutte le chiese hai offerto Te stesso, in milioni e milioni di chiese hai offerto stamattina Te stesso, in remissione dei molti peccati e degli uomini, ambi pietà di noi. E Tu, Padre Celeste, che hai visto moltiplicarsi i sacrifici del tuo figlio, perdone per il tuo figlio tutti coloro che abbiamo peccato, perdoni, O Gesù, e dalla grazia della vita, Tu che sei misericordioso, gloria, onore e benedizione a Te, Padre Santo, che siede sul trono, e all'agnello immolata per noi. Amen. Prende, adesso non dici questi quattro, il primo capitolo, il primo, quattro, quattro. Io ho pagato per tutti, figli miei, ho pagato per voi, per tutti i vostri peccati, sono stato crucifisso per noi, ogni volta che voi celebrate, da memoria di me, nel santo sacrificio della messa. Ricordatevi che io ho pagato per tutti e pago per tutti, ma non peccate più, non tornate a croidificere il vostro Salvatore, non peccate più. Il mio cuore è aperto al perdono, conservatevi i mondi dai peccati, conservatevi pure da questo mondo, ascoltate la mia parola, perché la mia parola è parola di vita, vivete nella santità, perché a questa santità io vi ho chiamati. Aspetta, permettete un minuto che stiamo leggendo. Destro e Unicesi 4, 4. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, cioè che vi assieneate dalla impuricizia, che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto. non come oggetto di passione e di ripidere, come fanno i pagani che non conoscono Dio. E dovete perciò comportarvi come Dio da voi esige. E in questa materia nessuno inganni il proprio fratello, dicendo che non è così, perché il Signore vindice di tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e attestato. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione, perciò chi disprezza queste norme, non disprezzo un uomo, ma disprezza Dio stesso che vi dona il suo santo Spirito. e parole del Signore in Destro e Unicesi 1, 4, 4, 8. Signore, tu hai detto chiaramente, questa è la volontà di Dio per tutti, la vostra santificazione, cioè che vi astenate da ogni impuricizia, che rispettiate il vostro corpo come tempio di Dio e il corpo degli altri, come tempio del Signore, e che nessuno inganni con vani ragionamenti quello che vi si dice, perché questa è la verità e Dio sarà vindice contro chiunque imbroglie il fratello con altra dottrina. perché Dio vi ha chiamata la santificazione, non la impuricizia, e per questo vi ha dato il suo santo Spirito che abita nei vostri corpi. Signore, oh Signore, tu santo abiti nel nostro corpo, e siccome tu sei santo, anche il corpo che ti riceve, che tua dimora deve essere santo. Signore, che nessuno inganni il proprio fratello in questa materia, dicendo che le cose non sono così, perché chi distrugge il proprio fratello, Dio distruggerà lui. Chi distrugge la sana dottrina, Dio distruggerà lui. Signore, noi, questa mattina, siamo qui davanti a te. Sappiamo che la nostra carne è fragile, che portiamo questo tesoro in vasi di creta. Ma sappiamo che tu sei buono e misericordioso, che tu ripari il male da noi fatto, che tu continuamente ti offri sull'altare per noi. Signore, perdonaci il nostro peccato, ma dacci il tuo santo Spirito, perché noi possiamo conservare la legge della santità, perché questo, come perché sta scritto, questa è la vostra chiamata e questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, come anche ho detto per bocca del mio servo Paolo, in prima ai Testronicesi, primo capitolo. Voi tutti siete chiamati alla santificazione senza dalla quale non c'è salvezza. Ci si salva da santi, non ci si salva da peccatori. Siete stati tutti chiamati alla santificazione senza la quale non c'è salvezza. Signore, ti chiediamo di avere idee chiare a riguardo che nessuno inganni il proprio fratello. Non ascoltate la voce anche di anziani in Israele che vi possono dire altre parole. Questa è la parola di Dio, attenetevi a questa parola e camminate nella via della giustizia. Io ho detto nel profeta Isaia, i vostri orecchi vedranno una parola, i vostri occhi vedranno il vostro Maestro e anche che voi dovete mangiare e mangiare il pane dell'afflizione e bere l'acqua della tribolazione perché questa vita condotta nella santità e tribolazione e riafflizione non temete, io sarò sempre con voi ed io vi indico la strada, questa è la strada, percorretela, non andate a destra o a sinistra perché c'è il pericolo di andare a destra o a sinistra. Questa è la strada, è la strada santa che io ho percorso e per questa strada cammineranno i redenti del Signore. Alleluia! La mia parola è vino genuino, la mia parola è vino genuino, non andate a quattro, la mia parola, la mia parola è vino genuino, è vino piante, quello io vi ho dato, quello che ho vinto e beve. Alleluia! O Maria, mamma purissima, effluvio della sapienza eterna, effluvio del tuo figlio, virginale, nato dal padre in virginità, nato da te in virginità, O Maria, effluvio di purezza, in onda della tua presenza questo luogo, facci sentire il tuo profumo di santità e implora dal padre misericordia per noi, implora dal figlio misericordia per noi e dà che lo spirito santo, che spirito di purezza e di santità, abiti in noi e ci conduca per la via che c'è indicato tuo figlio. Amen. Santo Spirito, vieni! 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 Purifica il mio cuore, purifica il mio cuore, purifica il mio cuore. Amami, oh Signore, l'amami, oh Signore. Santo Spirito, vieni! 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 Camila, vieni! Camila, vieni! Camila, vieni! Camila, vieni! Camila, vieni! Vieni, Santo Spirito, Vieni, Santo Spirito, Santo Spirito, Vieni, Santo Spirito, Vieni, Santo Spirito, Vieni, Santo Spirito, Vieni. Ricordateci, sediamo un momento, la parola del Signore è stata data in abbondanza, che essa produce il suo frutto. Nascondetela dentro il vostro cuore, perché la parola di Dio produrrà sempre il suo frutto, se voi assecondate la grazia del Signore e lasciate che scenda la pioggia e brilli il sole dentro di voi. E intanto, se qualcuno vuole rendere ancora testimonianza al Signore per quello che ha detto, per quello che ha fatto, se qualcuno ha ricevuto un messaggio di luce, se qualcuno si è sentito toccare il cuore, se qualcuno, se ne sono tante, che si sono sentite sconvolte nell'intimo, date gloria al Signore, se la zolla non viene sconvolta, dall'aratro che la parola di Dio non può mettersi al sole e ricevere i salmi benefici del sole e poi fruttificare. Pertanto, se qualcuno ha da rendere testimonianza al Signore, perché si è sentito illuminare, toccare, sconvolgere, può farlo liberamente. Pertanto, poi, seconda categoria, le persone quelle che hanno avuto grazia dal Signore in questa settimana, nei giorni scorsi, di guarigione, di liberazione, di riconciliazione, di consolazione. Per cui, prima categoria, quelle che oggi si sono sentiti toccare dal Signore. Sento che c'è una persona affetta da otite, il Signore la tocca e la guarisce. La persona adesso ci sente bene. Se la persona è presente, alzi la mano e si identifichi. Soffriva l'orecchio e adesso ci sente. Grazie, Signore Gesù. Ancora è stata annunziata circa un mese fa, da padre Matteo, la guarigione di un'epatite. C'è una testimonianza, grazie mio Dio, di avermi guarito dall'epatite B. Lo aveva detto un mese fa, da Matteo. Ho fatto tutti gli esami e sono sana. C'è una donna che soffre di osteoporosi. Signore tocca, rafforza il suo scheletro, rafforza l'esiossa, chiama il calcio da tutte le parti e la donna viene guarita. Io confermo, avevo nel mio spirito la parola, ossa inarivite dovete rivivere, ossa inarivite rivivete. Sì, anche una guarigione agli occhi, sempre si tratta di una donna che è qui presente. Godi, figlia mia, il Signore tocca i tuoi occhi, perché il fiere del pesce si posa sulle tue pupille, sulle palpebre e le tue infiammazioni che oscurano gli occhi, questa infiammazione cessa. Se la persona è presente e si è sentita toccare e rinfrescare gli occhi, si identifiche. Una donna che si sente rinfrescare gli occhi perché è rinfiammata. Grazie, Signore Gesù. C'è la guarigione di un bambino che è sulla carostella a rotelle, però il bambino non è paralizzato, non cammina, ma il Signore tocca le gambe e guarisce queste gambe. E poi ci sono altre persone, ci sono altre persone che faticano a camminare. Il Signore dice questa parola, soccorrerò gli zoppicanti. Per quanti hanno i valori del sangue sballati, chi in eccesso, chi in difetto, c'è questa parola. Nel nome del Signore Gesù, nel nome del Signore Gesù, valori del sangue inferiori all'ordine, al peso e alla misura messe dal Creatore, crescete e moltiplicatevi. Per voi, globuli del sangue, elementi del sangue, che siete in più, dice questa parola, abbassate la vostra alteriggia, riducetevi al numero, all'ordine, al peso e alla misura dato dal Verbo Creatore. Nel nome del Signore Gesù, per il sangue di Gesù, per la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Amen. C'è una parola che risuona il mio orecchio, è in cefalogramma. Signore, c'è una persona che soffre alla testa, da diverso tempo, e il Signore tocca e guarisce l'encefalogramma che già è stato ordinato, verrà la risposta che non c'è niente. Grazie. Signore, Tu ci richiami a testimonianze preterite di guarigioni anche rilevanti, perché c'è una guarigione da tumore che non è stata ancora testimoniata. Ci sono altre guarigioni non testimoniate. se volete dire un grazie al Signore, ditelo, però non in genere, ma se sono persone che non hanno ancora testimoniato e hanno ricevuto grosse grazie dal Signore, sono pregate, se vogliono, di dire un grazie al Signore per quello che ha fatto.